partite veloce Alkibir in vantaggio nei compronti di Weaver of Alav e Camayorca al suo esterno quindi Silvertail con in coda San Blas Alkibir conduce sempre allo steccato tallonato all'esterno da Weaver of Life dietro i due Silvertail risale all'interno di Camayorca lasciando in coda San Blas siamo a 300 dal palo con in vantaggio Alkibir attaccato all'interno da Silvertail che sta passando mentre a centropista sta scattando San Blas nel tratto finale Silvertail sotto l'attacco di San Blas i due davanti a Weaver of Life e Alkibir rivediamo le immagini con lungo lo steccato Silvertail e Dario Vargiù che hanno mantenuto a bada il tentativo finale di San Blas con Germano Marcelli quindi sul palo 4-5-1 il probabile e ufficioso arrivo della seconda di Napoli